Sia Montecatini che San Minato ripartiranno dai due allenatori, Alberto Tonfoni e Federico Barzotti. Per Tonfoni, a dir la verità, manca ancora la conferma ufficiale, ma l'impressione è che si tratti soltanto di una questione formale. Per Barzotti, invece, l'investitura è arrivata nelle ultime ore. D'altra parte, i due tecnici Valdinevolini si sono meritati il prolungamento del rapporto di collaborazione sul campo, con il raggiungimento degli obiettivi base, salvezza al primo e campionato tranquillo al secondo, e con i risultati, che nel caso dell'Etrusca sono andati ben oltre le più rose aspettative. I termali, è vero, hanno faticato di più, ma alla fine, dopo partenze eccellenti e infortuni vari, hanno terminato la stagione increscendo, aggiudicandosi gli spareggi per non retrocedere in scioltezza. C'è anche da considerare che Coach Tonfoni era il debutto in Serie B come capo allenatore e che alla fine se l'è cavata egregiamente. Fra i rosso-blu è probabile anche che il primo tassello del nuovo corso sia costituito dal vecchio, ovvero dal diversamente giovane Guido Meini, che in barba ai 40 anni è stato uno dei migliori play della categoria. Rimane saldamente a presidiare il parquet del fonte vivo Federico Barzotti, che con un organico discreto ma non certo da prima fascia è riuscito a pilotare il team nelle zone altissime della classifica, stazionando per quasi tutto il torneo fra la seconda e la terza piazza, prima di scedere qualcosa nel finale e terminare la regular season in una comunque ottima quinta posizione e uscire dai play-off con Faenza l'ultimo tiro della terza partita. Alla prossima Alla prossima Alla prossima Grazie a tutti.